Questa greva va? D'una parte del personale dell'infirmieria di reanimazione in Naiaccio vuole noi affermare una petizione e domandano la riconoscenza di l'isomistiere Jean-Philippe Mattei. E' per via di un comunicato di stampa che l'infirmieria di reanimazione hanno chiamato a greva per la giornata di l'11 di maggio, in più della gestione della crisi sanitaria e un rapporto di accorti di conti che ha fatto reagire i personali medicali posto che da consigliere di forma meglio e riconosce le competenze. La rete rimedicazione è sopportata, vibro con un ascoltato a Delphine Delatour. On nous demande d'être compétenti, on nous demande d'être compétenti a plusieurs techniques de reanimazione e il faut former des gens e tutto ciò, on lo fa già, ma vuole che ci sia riconosce, preso in conto, c'è il nostro combattato di oggi. Tratti sono distribuiti da posti a mani dei centri commerciali di circondi a Cino, una petizione è stata lampata qualche giorno va, questa qui ha raccolto quasi due e mille fermature. Su dopo mezz'iorno una mossa sarà organizzata di petala RS, una delegazione di personale sarà ricevuta.